Sampdoria bella, intensa, spietata, e la pazza Inter deve arrendersi a quei due pazzi là davanti. Antonio e Giampaolo, per servirvi. E' questa la sintesi estrema di una semifinale di Coppa Italia che rimarrà a lungo nelle memorie di coloro che hanno a cuore le sorti blucerchiate. Una partita dominata dagli undici di Walter Mazzarri finché rimasti tali, ovvero prima dell'espulsione di Gastaldello. E poi, seppur in inferiorità numerica, condotta in porta a reti inviolate grazie ad una difesa bunker e ad un super Castellazzi. E' stato un 3-0 che non ammette repliche, memorabile perché in vista del ritorno a San Siro del 22 aprile dà un bel vantaggio in chiave finalissima, costringe i campioni d'Italia dello Special One Mourinho ad uscire sconfitti da un match col Doria dopo quasi dieci anni e perché conferma il momento magico della Samp, ma soprattutto quello della coppia Cassano-Pazzini. Sono loro, ancora una volta, i volti da copertina di una serata cominciata in discesa col vantaggio firmato Fantantonio dopo meno di dieci minuti. Rivas si incischia, il 99 blucerchiato ne approfitta e supera Toldo con uno splendido tocco sotto. Sotto di un gol, l'Inter non trova il bandolo della matassa e Palombo e i compagni ne sanno approfittare. Proprio come tre giorni prima parte dal destro del capitano, il corner che raggi devia verso il centro dell'area, dove il pazzo non manca all'appuntamento e timbra al 2-0. Il centravanti di Pescia può festeggiare a modo suo il settimo centro in nove gare in maglia blucerchiata. Ma non finisce qui perché qualche minuto dopo arriva anche l'ottavo. Cassano si libera di riva sulla sinistra e manda in mezzo un pallone di platino. San Marco non riesce a deviare, ce la fa invece Padalino, Toldo respinge, Cordoba non libera e Pazzini si avventa sul 3-0 a porta sguarnita. Si fa festa in campo, in panchina con l'esordiente russo e sugli spalti. La magica notte di Marassi è un sussulto nella ripresa, quando Gastaldello viene espulso per doppia munizione. Da quel momento, come logico, si comincia a rischiare un po', ma Castellazzi fa il fenomeno a più riprese sulla raffica di conclusioni ospiti e là in mezzo nessuno si risparmia una goccia di sudore. Il triplice vantaggio Samp, netto e meritato, regge fino all'ultimo. Marassi torna quindi a brindare in coppa. Cautela certo, ma oggi Roma è di sicuro più vicina. È un Riccardo Garrone euforico, quello che al triplice fischio di Saccani scende negli spogliatoi a complimentarsi con mister e ragazzi e spende parole buone per tutti. Il presidente si gode una splendida notte di Sampdoria, una delle più belle da quando sono qui, ha dichiarato. Notte che, con tutta la prudenza del caso, proietta i brucerchiati verso la prima finale dal suo avvento alla presidenza doriana. Orgoglio e soddisfazione dunque, ma anche un sassolino importante. Se proprio devo trovare una nota negativa, ammesso Garrone, devo dire che poco più di 14.000 paganti per una semifinale di Coppa contro l'Inter sono davvero pochi. Ringrazio quelli che sono venuti, ha proseguito il presidente, perché come sempre sono stati incommiabili e commoventi per il sostegno che hanno dato alla squadra. A coloro che sono rimasti a casa dico solo che si sono persi una bella serata, ma soprattutto una gran bella Sampdoria. È veramente straordinaria, non solo per aver vinto contro l'Inter, ma soprattutto perché hanno mostrato di essere una grande squadra, con una determinazione senza mai fermarsi, con gol splendidi, dal primo di Cassano che veramente sembrava facile, ma sono tra i gol più difficili da fare. Veramente una grande gioia. Alla media di quasi un gol a partita. Il Giampaolo Pazzini-Blucerchiato non è solo il centravanti abile a giocare di sponda e far salire la squadra, ammirata Firenze in under 21. È un bomber implacabile il pazzo, che fa ammattire le difese avversarie, le aggira, le sfianca e le punisce alla prima occasione. Sul suo momento e su quello della squadra, sul duello con Materazzi sulle prospettive di una finale, Giampaolo ha parlato a fine gara, l'ennesima da otto in pagella. È un bel periodo, sta andando tutto bene, sono molto contento, sono molto orgoglioso, quindi speriamo di poter continuare così. Una grande partita stasera? Grande partita, a parte tutta la squadra, abbiamo fatto un primo tempo molto bello, secondo tempo abbiamo sofferto un po', anche per l'uomo in meno, però stasera c'è da fare complimenti a tutti. Hai sgomitato parecchio con Materazzi, come è andata? Si danno, si prendono, fa parte del calcio, diciamo che ce ne siamo un po' date, però insomma alla fine è andata bene per noi, quindi sono contento. Ora c'è un piede in finale, si può dire? Abbiamo un buon vantaggio, è chiaro che andare a Milano non è facile, l'Inter sappiamo tutti la squadra cos'è, però abbiamo un buon vantaggio.